Al termine della prima tappa con Stefano Fasani che ci racconta la sua giornata. E già ride. Sì, rido, rido perché non posso... Piangere? No, e dire altro. No, vabbè. Tappa bella, prova bella, così giusto pronti per darci un assaggino, 160 chilometri di speciale. Bella, molto varia, veloce, guidata, lenta, ossia un po' di tutto. Se non che dopo una dozzina di chilometri ho deciso di... Niente, ho fatto una piccola scimolata. Ah, hai danneggiato. Ho risvoltato come un calzino la leva del cambio e mi sono fatto 105 chilometri di speciale in quarta. Oh mamma mia. E devo dire che non è... Non è bello. No, è bello ma non bellissimo. Vabbè, comunque poi sono arrivato in assistenza, Fausto e Alessio Grandiosi. Con la sola imposizione delle mani. Assolutamente, la leva si è raddrizzata immediatamente. Subito. Purtroppo ho perso parecchio tempo e ho provato a raddrizzarla. È certo. Perché avevo mano, non c'era nulla da fare. Sono ripartito, mi sono accorto che ero il secondo e ho detto... Ops. Forse il secondo e il secondo e il secondo. Ti sarà mica rimasta, esatto. Bene ma non bene. No. Allora niente, sono fermato, con la mano ho messo la quarta e ho proseguito. E buono, dopo gli ultimi 50 chilometri invece tutto bene. No, no. Tappa bella. Ah. Tappa bella. Trip funzionato tutto bene? Perfetto. Il termopalchidaccio perfetto. Perfetto. No, no, tutto a posto. Ottimo. Gran caldo. Eh sì. E vabbè, adesso mi sembra, dovrei essere... Buono, aspettiamo a vederlo perché bisogna vedere tutto. No, mi interessa. Bravo. Primo giorno. No, primo giorno è talmente lungo e... Solo una domanda, hai visto il roadbook di domani quanto è cicciotto? Sì, perché so che domani ci aspettano un bel 400. Due speciali da belle 100 chilometri. Esatto. E infatti adesso stiamo aspettando io e i miei compagni di merende che torni fa auto col furgone per raccattare tutto necessario e cominciamo a fare il roadbook. Il roadbook subito. Bravissimo. Notizia, cominciamo a puzzare come degli animali. No, è presto ancora, è presto. Buttati in piscina. No. Fausto arriva velocemente, il messaggio è dato. Comunque è tutto a posto. Bravo. Sardegna, la gara, la gara della Madonna, è ancora lunga. A voglia, appena cominciata. Grazie. Ciao, ciao. 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 Grazie.